Nella prima giornata della festa dell'unità, di scena al castello Pignatelli di Monteroduni, si è discusso di ambiente, agricoltura e green economy. Ne hanno parlato tra gli altri l'assessore regionale Vittorino Facciolla e la parlamentare Laura Venitelli. Gli stessi argomenti sono stati approfonditi in serata, con l'intervento del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, mentre con l'altro ospite della serata, l'ex segretario del PD Pierluigi Bersani, l'attenzione si è spostata sui temi più attuali della politica nazionale. Ne sono mancati accenni al taglio delle province e ai possibili nuovi assetti delle regioni. Una questione che riguarda da vicino il Molise. La sua autonomia è stata infatti rimessa in discussione. Secondo me c'è stato sul tema, ma non so mica dicendo la politica solo, nel senso comune l'opinione, molta approssimazione, un po' di demagogia, perché poi le province vogliono anche dire, vabbè adesso chi cura le strade, se abbiamo le buche nelle strade, sì, le scuole, stiamo parlando di questo, no? Bisogna andarci cauti. Quanto poi alle regioni e alle cose, io sono perché invece, lo dico francamente, si abbia il coraggio per dare, io sono un regionalista, sono un regionalista, convinto. Però dobbiamo avere il coraggio di discutere, secondo me, l'assetto, il fisico, diciamo così, delle regioni. E vedere forse di riorganizzare un po' l'Italia sulla base di pezzature un po' più significative. Per me non è un'eresia. Certamente non c'è uno da Roma che può dire, tu sei, ecco, questo no. Ma se dal basso partisse una discussione del genere, secondo me sarebbe tutto assoluto. Bersani ha parlato anche del futuro della segreteria del Partito Democratico. Per lui il doppio incarico di Renzi, premier e segretario, non è un problema, anche se lui non l'avrebbe fatto. La questione è piuttosto un'altra. È il caso, cioè, di discutere tutti insieme per creare un partito che sopravviva ai propri leader. I vent'anni che abbiamo alle spalle non ci dicono che in Italia esistono dei partiti capaci di sopravvivere al loro leader. Non ce lo dicono, eh, i vent'anni che abbiamo alle spalle. Ci dicono altro. Il PD è una sfida su questo punto qua. Adesso noi, oltre che a governare, dobbiamo preoccuparci che il PD si consolidi come un grande soggetto collettivo che sopravviva a Bersani, sopravviva a Renzi, e sopravviva a quello che viene dopo Renzi.